A un anno dalla scomparsa dell'ex presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, si è tenuta a Palazzo del Pegaso, a Firenze, la cerimonia di conferimento del premio all'intitolato Miglior tesi di laurea David Sassoli L'Europa, le regioni e i cittadini, il tema della prima edizione del riconoscimento rivolto a giovani laureati degli Atenei Toscani Bandito nel 2022 dal Consiglio regionale della Toscana in attuazione della deliberazione dell'ufficio di presidenza d'intesa con la Commissione politica europea e relazioni internazionali, il premio ha l'obiettivo di ricordare il pensiero e l'azione di Sassoli David Sassoli è stato un grande uomo delle istituzioni, un esempio per chi come me ha il compito di guidare l'assemblea legislativa e questo è secondo noi il modo migliore per ricordarlo, ricordare guardando negli occhi quelle ragazze e quei ragazzi che possono costruire un nuovo futuro dell'Europa Mi pare che sia davvero un momento bello, è un momento che ci aiuta a ricordare David Sassoli ma soprattutto ci aiuta anche a dare un segnale alle ragazze e ragazzi toscani che il Consiglio regionale attraverso la Commissione ma attraverso l'operato di tutti i suoi componenti è attento e soprattutto si pone in ascolto di quello che accade sui territori e credo che anche il rapporto, e li voglio ringraziare, dei docenti che hanno composto la Commissione di Valutazione sia anche una buona prassi anche per dare gambe e dare futuro a questo premio 22 le tesi che sono state esaminate dalla Commissione composta da Benedetta Baldi dell'Università degli Studi di Firenze Edoardo Bressanelli della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa Massimiliano Montini dell'Università degli Studi di Siena e da Jacopo Cellini del European University Institute Sono stati tutti lavori molto interessanti quindi poi alla fine abbiamo dovuto fare una selezione anche che fosse centrata più sull'oggetto del bando che sul valore dei lavori perché erano tutti veramente molto ben fatti Sono stati veramente degli ottimi lavori, una buona partecipazione una buona occasione anche di collaborazione fra le Università Toscane quindi grazie alla Regione di aver promosso questa iniziativa che spero invoglierà i nostri giovani a scrivere e a lavorare più su questi temi dell'integrazione europea Il primo premio del valore di 5.000 euro è stato assegnato ad Alice Campolmi laureata in giurisprudenza all'Università degli Studi di Firenze nel dicembre 2021 Filippo Bordoni, laureato all'Università di Pisa nel settembre 2021 è il vincitore del secondo premio di 3.000 euro Il terzo premio del valore di 2.000 euro è stato assegnato a Mila Manini Tiguari dell'Università di Siena, assente alla cerimonia Allora la mia tesi ha oggetto la tutela degli stranieri sottoposti a misure di trattenimento in Unione Europea ed in Italia Quello che ho cercato di fare all'interno della mia tesi è stato andare a esaminare la giurisprudenza quindi come le corti europee abbiano ampliato la tutela dei diritti fondamentali degli stranieri e la parte però più interessante è stata poi vedere come queste norme venivano applicate nella prassi quindi nella vita di tutti i giorni e che impatto avevano queste norme sui cittadini stranieri quindi sulle persone, sugli esseri umani La tesi di Filippo Bordoni è centrata sulla possibilità che l'Unione Europea regoli in maniera efficace i diritti dei lavoratori di fronte ai cambiamenti della tecnologia Un tema attualissimo, un tema legato ai diritti sociali è qualcosa in cui sicuramente Davide Sassoli credeva Il Teatro delle Arti è il frutto di un percorso fra professionisti del teatro e della musica istituzioni fondamentali per noi come il Comune di La Stassigna e la Regione Toscana e i nostri pubblici l'idea di un teatro aperto al pubblico che parli di noi, della fase che stiamo attraversando come cittadini, come artisti, come anche classe politica dirigente È stata presentata la seconda parte del cartellone 2022-2023 del Teatro delle Arti di La Stassigna gestito dalla Compagnia Teatro Popolare d'Arte e riconosciuto per il terzo triennio come residenza creativa della Regione Toscana una stagione nel cuore delle cose Nel cuore delle cose vuol dire un teatro che non si preoccupa troppo dei generi, delle tendenze spazio fra musica, danza contemporanea, teatro ovviamente, poesia e cinema, facciamo anche cinema ma che sia una comunicazione calda, vicina ai cittadini, inclusiva I numeri confermano il buon momento del Teatro delle Arti grande fiducia anche nel futuro Assolutamente sì e sono certo e sicuro che la nuova stagione del 2023 supererà anche i numeri pre-pandemia del 2019 perché c'è una programmazione intensa, di livello ma che consente a tutto il pubblico di potervi partecipare Il teatro dopo più di dieci anni di lavoro si conferma il più importante presidio culturale dell'area metropolitana di Firenze Ovest fortemente sostenuto dall'amministrazione comunale di La Strassigna Sicuramente la stagione che andiamo a presentare stamani offrirà sempre molteplici spunti anche per un interesse metropolitano con un programma, un programma che dà risposte al territorio infatti una progettualità che va a toccare vari ambiti la scuola, il sociale e questo è stato sempre il nostro punto di forza Sostenuto anche il progetto della compagnia Il Teatro del Mare esperienza di teatro carcere di portata nazionale realizzato nell'isola di Gorgona Il Teatro delle Arti, un fiore all'occhiello della regione Il nostro compito è quello di costruire sempre più iniziative culturali e fare in modo che arrivino sempre più a cittadine e cittadini della nostra regione Il Teatro di La Strassigna è qualcosa di bello ed ha il senso dell'importanza di investire sui territori anche quelli che non sono, come dire, propriamente al centro delle iniziative come regione mettiamo in piedi hanno qui uno spazio, una vetrina per poter crescere Apri il 2023 Gaia Nanni per una stagione che punta sull'eccellenza artistica con nomi come Virgilio Sieni ma anche sulle esperienze di tutto il pubblico con spettacoli come la nuova Barberia Carloni del teatro necessario per i ragazzi e le famiglie Altra produzione di successo è Fiabia Jets che è debutato al Festival Jets di Roma Terza produzione in programma, Edda Ascesa e caduta di una figlia di Belle La stagione prosegue oltre i generi con l'omaggio a Lucio Dalla tra musica e poesia e ancora lo spettacolo Norma dedicato alla partigiana Norma Parenti nel giorno della memoria mentre la danza dialoga con le tradizioni popolari in Terra Mia Presentata nello spazio espositivo Carlo Azzaglio Ciampi al Palazzo del Pegaso di Firenze la produzione pittorica dell'artista Alberto Martini una mostra che è un vanto per la regione Io sono davvero emozionato ne abbiamo presentate tante di mostre in questo spazio che abbiamo voluto aprire alle migliori eccellenze della nostra regione sono felice che oggi possano esserci qui i lavori di Alberto Martini so l'impegno, la qualità pittorica che Alberto mette in campo vedere qui oggi questa mostra vederlo qui insieme alla sua famiglia è anche un po' il premio e il riconoscimento di anni di impegno L'artista si muove in un mondo che è il nostro mondo quello della quotidianità degli oggetti di uso comune e dei paesaggi conosciuti che l'artista rivede e rilegge offrendoci una visione forse qui sta proprio uno dei poteri dell'artista riuscire a vedere dove gli altri guardano C'è al di là della loro funzione c'è il vissuto, c'è la memoria che questi oggetti evocano credo ad ognuno di noi Nelle opere di Martini, artista pisano spesso compaiono i paesaggi della sua terra Io sono pisano, ascianese quindi non posso che essere legato anche alla bellezza del mio territorio all'armonia che questo paesaggio antropico trasmette quando lo guardiamo, quando lo contempliamo Dietro gli oggetti che Martini mette in mostra c'è la vita quotidiana per un'arte che invita a riflettere e pensare Io direi che dentro agli oggetti e dietro agli oggetti che Martini mette in mostra c'è la vita quotidiana, la nostra vita in realtà è la vita di tutti i giorni, degli oggetti che noi incontriamo nel nostro vivere quotidiano Certamente in questi oggetti noi troviamo quasi una ricerca sull'essenza degli oggetti stessi perché c'è una capacità degli artisti di riuscire a vedere e a scavare all'interno degli oggetti quando forse per molti altri invece si tratta di oggetti da buttare via, da levare di torno, da abbandonare La mostra può essere visitata fino al 21 gennaio con il seguente orario da lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 il sabato dalle 10 alle 13 Il Consiglio regionale ha premiato con una targa celebrativa l'Unione Sportiva L'Arcianese Calcio in occasione dei 100 anni dalla fondazione Un traguardo importantissimo A consegnare il riconoscimento nelle mani del Presidente Giancarlo Carbone è stato il Presidente dell'Assemblea Legislativa Antonio Mazzeo 100 anni sono tanti e il premio dato oggi al Presidente Carbone è un po' il riconoscimento a tutte le persone che si sono impegnati in questi anni Lo sport è un valore importante Trasmette quei valori che rendono l'uomo migliore Io penso e spero che questo riconoscimento possa servire alla L'Arcianese Calcio per continuare nella direzione che ha portato avanti in questi anni Prossimità, vicinanza alle persone e costruzione di relazioni e di comunità Anche questo è il mondo dello sport 100 anni, un traguardo storico che inorgoglisce il Presidente Carbone Intanto siamo orgogliosi di essere qui oggi a ritirare questo premio perché sancisce 100 anni della nostra storia, della nostra attività Sicuramente per il territorio dove siamo è un orgoglio è una cosa importante ritirare questo premio Siamo tutti orgogliosi Non è semplice, non è stato semplice arrivare fino ad oggi a far 100 anni della L'Arcianese Si spera di farne altri 100 La sindaca di L'Arciano, Lisa Midei, parla con orgoglio del bel traguardo che riguarda sì lo sport ma anche il paese a tutto tondo Sì, la L'Arcianese è un fiore all'occhiello della nostra comunità perché con questo traguardo dei 100 anni ci riempie veramente l'orgoglio anzi ringraziamo anche il Presidente Mazzeo che ci ha invitato per questo riconoscimento Dobbiamo ringraziare infinitamente il consiglio direttivo di questa società sportiva che manda avanti nonostante tutte le difficoltà del momento il momento che abbiamo passato con il Covid per aver tenuto duro e quindi essere arrivati veramente a questi 100 anni e poi ringraziare tutti gli imprenditori perché ovviamente per investire per portare avanti una società sportiva ai giorni d'oggi c'è bisogno veramente di tante risorse e quindi il ringraziamento va a loro e a tutto il mondo del calcio che ci segue e ai tanti affezionati cioè insomma è la maglia viola che è il colore della L'Arcianese è proprio nel cuore di tutti noi A proporre il riconoscimento deliberato all'unanimità dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio il Vice Presidente dell'Assemblea Toscana Marco Casucci e la consigliera regionale Luciana Bartolini Il ricordo non è semplicemente una targa il ricordo è capire quanto sono importanti dal punto di vista sociale queste società che sono minori dal punto di vista, ripeto, degli sponsor ma che per il significato, il messaggio, la fruizione sociale che danno ai nostri giovani sono decisamente maggiori Io avevo letto per caso che facevano 100 anni e mi è venuta l'idea appunto di dare questa targa alla L'Arcianese giustamente perché 100 anni sono tanti 100 anni di sport e direi anche di volontariato perché poi alla fine è un po' di volontariato che fanno lavorano per i giovani hanno un settore giovanile ho visto la squadra giovane lavorano, cioè giocano con altre squadre un po' della Valdinevole, un po' del vicinato e quindi è un premio ben meritato questo alla L'Arcianese L'Arciano si conferma sempre un comune veramente straordinario perché appunto un comune di piccola e media dimensione ma in cui ci sono realtà sportive di rilevanza straordinaria sia nel calcio e nel ciclismo quindi questa dimostrazione della vitalità di un territorio e di una comunità che è profondamente attaccata alla propria storia e è capace di proiettarla nel futuro con qualità, innovazione soprattutto con radici solide perché per arrivare a 100 anni significa aver portato avanti nel tempo una realtà e averla portata avanti bene e con efficacia Grazie a tutti